grazie mille grazie mille corrado effettivamente la materia molto complessa vasta e quindi sintetizzarla è sempre un bell'impegno e grazie anche per questo la riunione di questa sera si rientra appunto in quelle iniziative che vorrebbero contribuire a costruire quella carovana non che porta poi al 20 novembre a napoli e mi pare che insomma siamo abbiamo cominciato piede giusto forse perché vedo che tra di noi questa sera ci sono realtà che siamo tutti nel nord questo attacco al servizio idrico è centrato prevalentemente come ci ha spiegato corrado contro le realtà del meridione però si applica si può applicare volendo anche qui da noi non è escluso sappiamo per esempio che rispetto a queste cose lo dicevo all'inizio smart di torino ha presentato dei progetti ma qui con noi questa sera ci sono dei comuni che probabilmente non sanno i loro amministratori magari più avvertiti quelli che sono non a caso questa sera con noi hanno capito che qui c'erano delle possibilità e si vogliono documentare però ci sono anche delle realtà qui con noi questa sera che che sono proprio quei soggetti non conformi che sarebbero esclusi a priori da qualsiasi possibilità di accedere ai finanziamenti ma che noi abbiamo certi cercato di allertare perché proprio perché loro non sono conformi e proprio perché sono quelli che hanno quasi tutti delle sorgenti perché hanno piccoli acquedotti locali gestiti localmente alla buona un po la meno buona ma comunque e che sono diventati un po alla volta degli obiettivi non dichiarati ma di cui si vedono le manovre nella nostra regione da parte di una di quelle multi utility di cui tu parlavi e cioè dire iren sta mettendo le mani sugli acquedotti del piemonte non sempre ci riesce perché i comuni e la gente del luogo si ribella sandidero il comune di sandidero è uno di quelli ma ci sono anche vedo degli cittadini dei cittadini del di comuni del mortarino di asti che difende la sua azienda dell'acqua ma anche di altri gli altri comuni dell'alessandrino per esempio che stanno muovendosi per evitare che si trovano in difficoltà ecco non so se qualcuno di loro vuole william oppure elio della val curone o william che se qualcuno vuole intervenire possono essere davvero come dire l'obiettivo la preda di iren un po perché i comuni in cui si trovano non sono molto attivi e forse nemmeno molto informati ma è l'occasione d'oro questa per iren per fare la proposta arrivo io so come si fa i soldi li procuro voi state con me e avete risolto i vostri problemi che l'acqua diventi una merce non è cosa che ha importanza perché quello che conta farlo funzionare bene in maniera industriale poi non è nemmeno vero questo perché iren punta sull'acqua perché con l'acqua fa profitti che non riesce a fare così in maniera così cospicua con l'energia e nemmeno col gas là dove lo gestisce e quindi siamo in una situazione dove abbiamo poche informazioni dai nostri amministratori e dove le manovre però ci arrivano le notizie ci raccontano di ristoranti di qualità che ospitano cene tra esponenti vertici manager di iren qualcuno del lato locale a noi risulta per esempio che lato sei a queste cose si presti volentieri e che riguardano quasi sempre appunto il destino dei servizi pubblici locali ho visto che william potrebbe intervenire è uno di quegli attivisti che si trova proprio in mezzo a una vicenda di questo genere io lo inviterei a intervenire subito se poi qualcun altro si aggiunge è benvenuto william beh buonasera a tutti non so se mi sentite o meno spero di sì perché di solito ci sono problemi niente diciamo io non sono un esperto nel problema acqua e ci sono appena entrato un pochettino di cose le conoscevo prima ma molto l'acqua di rose adesso stiamo vivendo appunto una situazione di interesse particolare perché dobbiamo diventare in qualche modo gestori eccetera 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 per quanto riguarda un nostro piccolo acquedotto diciamo che la cosa che mi ha attratto un attimo nel ragionamento che sentivo prima e l'ho scritta una diciamo la mia collega è il fatto che noi non avremo per come la vedo io adesso noi non avremo una copertura che ci blindi nel futuro perché ho imparato adesso che noi si avremo la concessione dal comune eccetera eccetera ma la parola affidamento ad esempio la vedo ben diversa nel senso che l'affidamento è una cosa che deve fare la lato senza affidamento noi siamo stiamo lavorando forse per niente perché quando desideranno ci prendono via tutto come se fosse roba da niente in buona sostanza non abbiamo non abbiamo quella che mi hanno detto essere diciamo nei contatti che ho avuto ultimamente una forma di protezione che sia un coperchio e nessuno possa andare a togliere e per fare questo per come l'ho capita serve tutta un'azione politica di in bastimento di ragionamenti di modo che nessuno possa mettere le mani su quello che diciamo noi e tanti altri hanno fatto nel tempo noi siamo gli ultimi dove fare a fare a intraprendere questa cosa per cui su questo profilo la mia idea era e lo sto proponendo in qualche modo ad esempio nella nella valborbera dove noi stiamo bene o male operando non pensavo ci fossero così tanti acquedotti rurali io pensavo ce ne fosse uno due invece ce n'è un numero infinito ormai non si contano c'è una mucchia tutti in economia e sono tutti bene o male da soli nel senso se hanno un problema se la prendono su da soli e allora stavo cercando di vedere ma non entro nel merito del pieno entro nel merito di un'altra cosa secondo me riuscire a mettere tutti questi acquedotti che vengono giù dalla valborbera arrivano a costa vescovato vanno anche oltre quello che secondo me marca è un passaggio di notizie negli uni come stasera vedono delle partecipazioni sicuramente di persone che sono già già dentro al problema che sanno però manca sicuramente in questi piccoli acquedotti la la conoscenza dei problemi in buona sostanza vivono tutti un problema tecnico gestionale quotidiano sì però di prospettiva ce n'è poca io sto proponendo innovarle praticamente per quelle poche persone che conosco sfruttando siamo un contatto del sindaco di costa vescovato con cui mi sono trovato anche d'accordo su questa questione di perché non proponiamo ad esempio una consulta degli acquedotti perché queste informazioni se passano possono avere un movimento chiamiamolo così di resistenza perché alla fine ci troviamo che lato e tutto quello che ne consegue se dovrà decidere ci può togliere tranquillamente quello che noi non abbiamo come affidamento e poi passa dove vuole l'unico vantaggio che abbiamo è che siamo messi talmente male talmente piccoli che diventa difficile io vi faccio solo un esempio per questa cosa qua anche se non parlo di pnr mi dispiace perché non è che ci capisco moltissimo è chiaro che il pnr per come lo vedo io ci 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 vieta qualsiasi tipo di finanziamento quindi dovremo per forza avere autofinanziamenti come potremo farlo quindi sarà una vita difficile ultimamente mi sta capitando una cosa che è quasi divertente perché nella mia realtà si stanno costruendo se ce la fanno un numero infinito di piccoli acquedotti ad esempio e invece che avere fatto una scelta diversa hanno fatto questa e alla fine succede che il gestore privato ti continua a dire che non ci vuole prendere mano che si dà una mano tranquillamente per per evitare di prendersi alla fine alla fine prenderà comunque delle isole felici che sono dotate di acquedotto e sorgenti e metterà già un piede pronto a fare il resto però il problema è che c'è talmente di vario da soli non si riesce a controbattere una un gestore privato e quello che manca secondo me ha proprio questo ragionamento di di cappello della questione di al momento per quello che vedo io chiaramente il pnr come lo affrontate voi è una questione importante perché da delle linee di sviluppo che vanno in in qualche modo capite gestite e comunque bisognerebbe riuscire in effetti ad avere una un insieme di ragionamenti e avere dei tavoli per adesso tutti si possa anche confrontare che non è una cosa semplice chiaramente l'esperienza di abc di napoli per quel poche conosco è stata determinata in un certo modo e ha avuto un esito sicuramente però ci vuole non è così semplice la questione per cui non sono non si prende anch'io come come potere chiaramente l'unica cosa che adesso mi viene in mente ma la classica ormai c'è quasi sempre dappertutto mettere insieme un po di più gente che si può il vostro impegno è meritorio perché in effetti io non conosco la materia solo tramite voi riesco ad avere qualche notizia diciamo di prospettiva e questo per riuscire a trasferire questa questa prospettiva all'interno di piccoli acquedotti non sarebbe male perché in effetti li vedo molto disattenti ecco io sto dicendo ai miei ai miei colleghi attenzione perché stiamo lavorando poi fra sei mesi magari decidono che andiamo tutti a quarta 48 non abbiamo nessuno strumento di protezione su questo pianera e l'altro prima di carica no no volevo chiedere se c'erano altri che volevano intervenire perché poi il tempo era una testimonianza importante la sua william e quindi è giusto che abbia preso la parola precisando però che quasi tutti almeno nel tovenese i piccoli acquedotti hanno avuto perché si sono attivati perché lato torinese li ha avvertiti hanno fatto la procedura per il riconoscimento i comuni con meno di mille abitanti che hanno montani e così via ce ne sono ancora sei o sette cosiddetti non conformi perché dice il sindaco di santidero ma anche quello di busano il sindaco di busano il comune di busano non voleva essere non voleva entrare in smatte e ha resistito finché c'era vecchio sindaco poi purtroppo gli è subentrato un altro sindaco che ha convinto il comune a rinunciare all'autonomia e all'autogestione sono realtà minime che però adesso tornano tornano in primo piano nella provincia di torino diciamo che sono sei questi comuni che difendono con le unghie e coi denti l'autogestione perché ci sono proprio gli abitanti che si gestiscono l'acquedotto che si impegnano su quello un po che lo fa che lo considerano quello che dovrebbe essere il bene comune un bene comune che non è di proprietà di nessuno dove il concetto di proprietà è superato appunto dalla comunità che gestisce questo bene nell'interesse di tutti senza escludere nessuno qualcun altro vuole arricchire questo fare delle domande soprattutto che sicuramente che sicuramente corrado in grado le quali sicuramente in grado di rispondere buonasera a tutti io sono paola del comitato acqua di torino ringrazio molto corrado di e così vorrei riporle un po le mie riflessioni alcune insomma e che cosa ne pensa rispetto non dico una linea perché non esiste in questo momento anche perché come dice il signor william nessuno sa niente di questo pnr adesso noi parliamo dell'acqua ma ci sono tanti altri aspetti la sanità nessuno sa niente e soprattutto nessuno fa la cosiddetta contro informazione e se ti mancano questi elementi poi ti bevi tutto ti bevi tutto quello che ti dice draghi con gli annessi e i connessi e quello che io ho letto non sono cercato di capire nel specifico nostro dell'acqua che poi alla fine della della fiera poi chi detta le regole era era che poi in sostanza al di là della nota ma anche entra nel merito stabilisce quali sono appunto i soggetti cosiddetti adeguati e conformi a quelli che devono essere gli indirizzi quindi io ritengo che bisognerebbe poi magari per chi non non è avvezzo un nostro movimento non ha seguito tutti gli aspetti che riguardano la tariffa che abbiamo come dire combattuto fortemente sia come form che anche a livello a livello locale ehm per cui adesso non entro nel bene come sicuramente l'acqua passando ad arera eh ha avuto come dire una eh evoluzione in termini di rincaro della tariffa che soltanto nella nostra realtà torinese ha voluto dire quasi il 40 per cento in dieci anni e ha permesso però un aumento degli utili dei gestori nel nostro caso la smart ma adesso non è per parlare della nostra realtà comunque eh utili che sono aumentati circa il cento 40 per cento eh noi chiediamo che abbiamo iniziato questa battaglia di dire basta arera cioè l'acqua deve fuoriuscire da arera e deve rientrare nel suo ambito naturale che è il ministero dell'ambiente perché in sostanza arera è il gestore ma che diciamo detta le regole per i gestori non per gli utenti questo è deve essere chiaro a tutti per i gestori per i gestori nel formare la tariffa nel definire gli investimenti e no assolutamente riguardo a quelli che sono gli aspetti invece che riguardano la gestione eh di questo bene e quant'altro quindi io chiedo a Corrado non ritieni che sia parlo all'interno del movimento è importante riprendere eh questa battaglia con delle iniziative si era detto poi c'era stata la pandemia di fare un'iniziativa a Milano eh un sitting un flash mob cioè riprendere fare conoscere il più possibile a chi ci sta intorno chi è arera che cosa fa e il motivo per cui noi chiediamo che non si occupi più dell'acqua io ritengo che questo sia 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 un aspetto importantissimo perché o o l'acqua esce da arera o se no non ne usciamo perché addirittura la potenza e la forza di dettare all'interno di suggerire all'interno del PNRR chi deve gestire il servizio ragazzi cioè siamo veramente eh in una situazione tale per cui io ritengo che bisogna riprendere la questione di basta arera grazie eh sì eh il nostro cruccio da parecchio tempo eh che non siamo ancora riusciti a scalfire più di tanto anche perché le cause legali che abbiamo avviato anni e anni fa eh sonnecchiano eh grazie anche al covid eh alla incassazione potrebbero eh eh però io insisterei molto sul tentativo di approfondire quello che ci aspetta con il PNRR perché è vero tutto quello che diceva Paola eh che deve essere una delle battaglie che portiamo avanti ma da qui al 20 novembre questa sera abbiamo fatto questa prima riunione di sgrossatura e magari approfondiamo ancora quello che mi ha colpito anche parlando con le realtà che sono fuori Torino è appunto la eh questa consapevolezza di non sapere di non avere informazioni e mi chiedo se non potremmo eh organizzare qualcosa che continui già da questa sera eh il nostro incontro perché come diceva William stanno scoprendo adesso eh dei dei sindaci e dei dei cittadini eh della provincia di Alessandria stanno scoprendo adesso che stanno occorrendo grossi pericoli ecco ehm se qualcuno oppure non so se Corrado vuole fare un primo commento su questi due interventi sì magari eh posso un po' riprendere le cose che sono state dette fino adesso intanto Arera eh secondo me ehm c'è ragione Paola quando dice eh riprendiamo la battaglia contro Arera rendiamo più chiaro esattamente eh cos'è Arera e cosa sta facendo perché in realtà appunto anche questa battaglia eh per per l'abolizione di Arera e per riportare le competenze dentro il il ministero come dire fa pienamente parte della nostra battaglia per affermare un altro PNR fa pienamente parte lasciatemi semplicemente fare un po' questa ricostruzione Arera penso molti di voi l'avete presente nasce col governo Monti nel 2012 e nasce esattamente con quest'idea qua nasce col fatto di dire facciamo un'autorità indipendente perché appunto sono i tecnici che possono governare tutto quanto i processi e indicare le scelte giuste eh eh non è la politica e quindi le competenze che all'epoca stavano al ministero eh appunto eh dell'ambiente adesso mite appunto vengono trasferite ad Arera lì noi vedemmo ci fu già un primo grande inganno perché come è noto Arera come dire è la prima che ehm come dire contraddice pesantemente l'esito referendario penso vi ricordate il secondo quesito referendario quello che abrogava la cosiddetta remunerazione del capitale cioè il profitto garantito e Arera fa il nuovo metodo tarifario cambiandogli semplicemente nome la remunerazione del capitale diventa eh riconoscimento degli oneri finanziari che però riconosce anche come dire eh una percentuale sul capitale proprio e quindi a tutti gli effetti profitto garantito bene qualcuno se lo ricorderà il primo effetto di avere un'autorità indipendente e che eh lì eravamo di fronte a una palese violazione del referendum e noi ovviamente ci opponemmo anche dal punto di vista giuridico legale ma ci toccò andare alla sezione Lombardia del Tar non potemmo rivolgerci alla Corte Costituzionale ricordo che invece subito all'indomani del referendum all'epoca ancora il governo Berlusconi luglio 2011 fece un provvedimento che praticamente riprendeva esattamente il decreto Ronchi sulla privatizzazione lì andammo davanti alla Corte e la Corte ci diede ragione disse esattamente quella roba lì è in contrasto con l'estero referendario bene uno dei primi effetti di Arera è esattamente il fatto che ci toccò andare a un tribunale amministrativo eh non fatemi dire perché sarebbe molto censurabile quello che penso sulla sentenza eh che venne eh come dire fatta all'epoca ci rivolgemmo al Consiglio di Stato ma appunto eh tardi alla Lombardia e poi del Consiglio di Stato ci diedero torto ma come dire il difetto stava esattamente a monte cioè il difetto stava nel fatto che tu hai fatto diventare una scelta politica provvedimento amministrativo avevi detto appunto le tariffe non sono una cosa che riguarda appunto le scelte politiche sono un fatto puramente tecnico ecco questo eh da ragioni io penso del fatto che sul serio la battaglia contro la Rera eh rimane uno dei capisaldi della nostra iniziativa perché significa esattamente che la politica si sottrae le proprie responsabilità appunto che la contrabbanda tutto come fatto tecnico eh da questo punto di vista invece è fondamentale come scriviamo anche nella nostra proposta di legge sulla ripubblicizzazione eh appunto riportare le competenze in materia terifaria appunto dentro il ministero e poi appunto addirittura come dicevo io prima ricordavo anche Paola addirittura oggi siamo poi arrivati al paradosso che a Rera come dire lei invade altre sfere della politica appunto nella relazione che a fine luglio dice lei al governo praticamente come si dovrebbe fare la nuova proposta legislativa appunto per eh portare gestioni efficaci industriali e l'insieme del mezzogiorno e non solo mezzogiorno insomma anche anche le altre situazioni quindi addirittura siamo arrivati al punto che la politica si sottrae dalle sue responsabilità le passa a un organo tecnico e adesso l'organo tecnico dice come si dovrebbe fare la nuova legislazione ecco siamo veramente di fronte a una cosa assolutamente incredibile e dice anche così adesso interloquisco anche eh con quello che diceva William adesso mentre parlavate mi ero spostato per andare al computer per tirarmi fuori la eh la relazione di di Arera ma mi sta facendo un po' di bis al mio computer infatti io sono collegato con con il telefonino perché adesso non ho ben presente William magari ce lo dice oppure lo dite voi i piemontesi che lo sapete qual è esattamente la situazione eh che ehm nella quale sei in in quale e qual è il il territorio di riferimento faccio però presente che eh Arera nella sua relazione cita esattamente per nome e cognome le situazioni non conformi io adesso non so se la situazione del staff William eh è una di queste perché nelle situazioni alle quali ovviamente anche Arera ci mancherebbe anche questo eh dice che invece sono conformi esiste la famosa eccezione dei comuni montani con mille abitanti che hanno l'insieme del servizio idrico che comunque possono gestire in proprio esistono poi anche gestioni salvaguardate perché vengono dal passato e quindi non vengono toccate quindi adesso non so esattamente William qual è se diciamo se la tua situazione viene nominata da da Arera non so se Mariangela ce l'ha sotto mano adesso magari possono aprirla perché comunque Arera le cita per nome e cognome eh penso che valga la pena verificare questo fatto e poi in ogni caso anche se foste nella situazione tra virgolette delle delle quelle esattamente incriminate il ragionamento che tu facevi in qualche modo di costruzione di relazione anche con altre situazioni limitrofe investire le persone fare un'operazione di operazioni di informazione e come William stesso dicevi di resistenza è una cosa assolutamente utile perché è una cosa che come dire rispetto alla quale io penso in ogni caso eh si possa per perlomeno è doveroso dare una battaglia perlomeno come dire non si può semplicemente accettare così eh senza colpo ferire questioni appunto che in realtà denotano esattamente l'idea che appunto solo i grandi soggetti industriali le grandi multi utility e poco altro tra virgolette hanno come dire eh la la potestà di gestire il servizio idrico io guardate vi do solo un dato perché appunto si parla di efficienza eh certo eh dal punto di vista aziendale eh secondo i parametri cosiddetti aziendalisti della reddittività aziendale eh le quattro grandi multi utility sono molto efficienti perché producono un sacco di profitti e danno un sacco di dividendi ehm io le abbiamo messo un po' insieme guardando i bilanci dal duemila dieci al duemila e diciannove in termini cumulati quindi tutte seme IREN A2A ACEA e ERA e ovviamente questi dati che adesso vi do eh riguardano tutti i servizi che nelle quali operano le multi utility perché oltre al servizio idrico come sapete eh la gran parte di questi lavora anche per quanto riguarda l'igiene ambientale distribuzione del gas e dell'elettricità ciò non toglie che in dieci anni queste quattro grandi multi utility hanno fatto cinque miliardi e trecento milioni di utili e più di tre miliardi pari al sessanta per cento le hanno distribuiti come dividendi ai soci pubblici e privati ecco cioè per dire che certo questa è l'efficienza cioè il fatto di produrre profitti eh e ovviamente non c'entra niente col fatto che ehm invece ci sia un'efficacia sociale e di utilità generale eh faccio un altro esempio visto che come diversi di voi sanno io sto in terra emiliana eh per esempio eh come dire anche nella eh nell'efficiente eh Emilia Romagna dove peraltro i gestori ormai sono ridotti sostanzialmente a due a Irene che gestisce il servizio idrico da Piacenza a eh Reggio Emilia e che era che lo fa da Modena Rimini ecco eh in questa eh regione efficiente eh le perdite del servizio idrico sono certo inferiori al quaranta per cento nazionale ma al duemiladiciassette erano il trentun per cento e soprattutto questo dato è in aumento nel duemiladodici si era il venticinque per cento e questa cosa qua appunto è un esempio di gestione efficiente delle grandi multiutility appunto ovviamente investire eh per quanto riguarda la la ristrutturazione delle reti idriche evitare le perdite notoriamente sono investimenti che non danno grandi ritorni economici ecco però questo è l'idea che si ha esattamente il fatto che appunto che anche per quanto riguarda il servizio idrico e servizi pubblici quelli siano mercati a tutti gli effetti e quindi i gestori sono efficienti perché appunto in qualche modo sono efficienti dal punto di vista dei parametri aziendalisti di mercato e questo è quello che si può che l'idea che si ha sul servizio idrico e poi l'altra idea eh come diceva Maria Angela eh l'acqua come merce e l'acqua come merce il cui esempio più eclatante è stata poi la quotazione in borsa eh appunto la borsa merce di Chicago alla fine dell'anno scorso ecco quindi da questo punto di vista io penso che come dire noi abbiamo le ragioni ma dobbiamo anche provare a costruire un lavoro molto significativo dal punto di vista della formazione dell'informazione e del coinvolgimento delle persone perché come dire eh io penso che ancora a dieci anni di distanza però l'idea che l'acqua sia un bene comune e che il servizio idrico debba essere fuori dalla logica di mercato è ancora per fortuna largamente maggioritario nel paese. Mi pare volesse intervenire Elio e poi c'era ancora William per una con una domanda per cos'altro. Ah ecco ok buonasera a tutti eh ciao William buonasera Mariangela io eh no in realtà ho avuto la risposta poco prima eh non ho niente di chiedere a chiedere perché nella scorsa call avevo già esposto qual è la situazione per quanto riguarda qui in Valcurone questo piccolissimo impianto di cui appunto sto seguendo io e degli altri e pochi altri la situazione quindi se qualcuno interessa perché magari possiamo scambiarci eh dei contatti o che comunque gli interessa qual è la situazione qual è la posso anche riesporre non lo so potete per evitare di perdere tempo inutilmente cioè io ve lo dico volentieri non c'è nessun problema non so chi ci sia questa volta che non c'era l'altra volta. Questa sera c'è più gente della volta scorsa magari se riesci ad essere sintetico? Sì allora eh certo la nostra situazione è molto simile a quella di William siamo più piccoli questa è una frazione di un comune quindi si parla veramente di decine di utenze massimo eh ma purtroppo la a differenza di quello che succede con William nel paese di William qui eh la maggior forse la ma c'è stata un'assemblea perché a un certo punto a seguito di piccoli disservizi che ci sono stati il sindaco che era da anni dalla nostra parte però praticamente eh ha ceduto e ha detto no vabbè dobbiamo decidere qui se costituire costituire un consorzio regolare perché qui il consorzio che c'era non c'è più perché molti anziani del paese che lo gestivano sono purtroppo defunti e quindi in questa assemblea che è stata convocata un giorno di lavoro nel pomeriggio si sono presentati circa un terzo un quarto delle persone che avevano diritto di di intervenire o comunque di 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 votare in teoria forse era prevista anche una votazione perché c'erano le deleghe quindi eh però comunque alla fine da una parte io ho come dire ho portato delle bollette di gestione acqua che qui sono molto elevate come come tariffa convinto che tante persone che si facevano dei problemi magari a pagare 30 50 euro l'anno per gestire l'impiantino in autonomia eh sì sì un attimino si si ricredessero cercassero di 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 capire meglio qui quali potevano essere i costi anche perché per il solo allacciamento con tutto che l'impianto praticamente mh sottoterra lo 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 rileverebbero tutto quanto è belle fatto eh quindi chiedono dai 200 e 500 euro quindi non poco per come una tanto e poi ci sono dei costi fissi ci sono dei dei costi al metro cubo che di sicuro insomma non è regalata l'acqua eh comunque in questa assemblea sostanzialmente la maggior parte ha ha optato per passare a gestione acqua per non avere più problemi di assenza di referenti o cose così ed effettivamente io lì eh non ho non ho potuto presentare una un piano alternativo con un preventivo dei costi che ci sarebbero stati anche perché ovviamente sapete che l'iter per ottenere il le minime autorizzazioni per esercitare un acquedotto non è che sia proprio così semplice da 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 scoprire in qual è perché ci sono vari soggetti giuridici che possono fare da gestori eh perché ovviamente per per ridomandare le concessioni alla provincia bisogna presentare documentazione tecnica ricca diciamo perché ci vogliono geologi ci vogliono ingegneri eccetera e quindi sostanzialmente ci siamo trovati in una situazione un attimo di di stallo e e però adesso questa proposta vorremmo farla nel senso e perciò ho sentito anche William che comunque anche lui sta ricostituendo eh il soggetto giuridico gestore e probabilmente da quello che mi ricordo anche eh di di ottenere le concessioni e quindi eh stiamo cercando di capire come come possiamo fare siamo anche c'è nel senso abbiamo trovato dei tecnici dobbiamo chiedere preventivi eh per fare queste questi progetti ecco la cosa che su cui appunto eh tornando su quello che diceva prima Corrado mi sembra eh c'è da stare un po' attenti perché effettivamente se poi i decreti attuativi che il governo immagino se ho capito bene dovrà fare per recepire questo PNRR e immagino che li farà in fretta perché se hanno solo un anno per pastrocchiare eh bisognerà vedere se con questi decreti io francamente non penso però se con questi decreti non 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 possano effettivamente fare qualche cosa di di eh di peggiorativo della della cioè nel senso di di impedirci di impedire a un soggetto privato eh o un piccolo come dire associazione di no profit eh comunque un piccolo soggetto giuridico locale di esercitare un acquedotto localmente tra l'altro per concludere c'è anche la possibilità che qui si decida che qualcuno vada o che venga con noi tra virgolette con questa iniziativa e altri invece eh ricevano la il servizio dal dal comune per il tramite di gestione acqua per cui c'è tutte quante delle cose da capire quindi io mi fermerei qui perché sì eh grazie Elio eh sì effettivamente cose complicate quello che eh ogni volta che mi raccontate queste cose io penso a quegli personaggi che costituiscono lato sei che se avessero un minimo di cultura alternativa dell'acqua bene comune dovrebbero essere lì ai vostri piedi ad aiutarvi a portare avanti questo esperimento che è quello proprio dell'autogestione del bene comune nel quale eh gli utenti gli utenti che non sono proprietari eccetera eccetera e invece secondo me stanno fermi e vi guardano eh eh annaspare cercando una soluzione perché hanno loro sono dalla parte di gestione acqua che vi vuole prendere e non vi aiutano a difendervi e questo è il dramma di queste istituzioni che sono formate dai comuni eh ma tanti sindaci non lo sanno nemmeno però adesso non voglio eh se Corrado magari ha qualche idea hai vedo che sei interessato a questa cosa sì no ho visto in chat William che mi chiedeva una cosa ma non ho capito bene eh cosa volevi chiedere William eh ho provato a scrivere al volo perché così magari non allora niente il ragionamento era semplicemente questo qua eh hai citato un passaggio che non ho capito bene se era riferito al fatto di diciamo considerare in maniera diversa una certa cosa che tu hai chiamato mi sembra storicità di gestione una cosa del genere hai fatto un passaggio che mi ha mi ha attirato questa attenzione io sono all'interno di Ato 6 la nostra realtà è ha sicuramente una storicità di gestione privata tutta fatta dai paesani dagli anni 50 ma tutta la barbola è messa così e quindi mi ha attirato questa cosa perché nella mia idea ci sta non solo riuscire a portare a casa l'obiettivo ma quello di andare proprio nel termine più giusto in protezione di questo obiettivo perché nessuno c'è la mia paura che noi stiamo facendo tutto un stand baradà eh in una situazione in cui ci mettiamo niente a sparire se vogliono quello che non riesco a capire io e sfruttando anche quella quello che diceva la non mi ricordo il nome comunque il problema di Arera allora io non io non credo ripeto non sono esperto del problema quindi vado a raglio io non credo che Arera di per sé sia un problema e mi spiego Arera toglie dalle castagne la politica perché Arera decide le bollette decide la tariffa se questa dovesse essere decisa dalla dalla politica quindi dal ministero e la politica pensa ai voti e non ci sono santi e tutte le volte finisce così finisce con Draghi finisce con Monti finisce con con quello nel momento in cui ci sono problemi cominciano a pensare propriamente al voto quindi qualsiasi scelta che viene fatta meglio che la facciano altri perché almeno si va in campagna elettorale in un certo modo e questo per me è drammatico perché quello che non riesco a capire cioè secondo me Arera resterà sempre il problema potrebbe essere invece di fare una battaglia dentro al ministero dentro per farsi che Arera possa eventualmente cambiare un'impostazione perché Arera a quanto mi viene detto adesso è un perno su PNRR quello lì e quindi se Arera in effetti decide quali sono i soggetti conformi i rischi sono elevatissimi chiaramente in una zona di montagna dove ci sono tanti piccoli equedotti ognuno è un'isola felice e fanno prima e forse meglio a prendere un pezzettino a spizziche bocconi quello che è quello che verrà da noi in buona sostanza perché le contrade che non riusciranno fare questa questa partita diventeranno diciamo soggetti di presi da gestione acque ma verranno presi non con una linea di acquedotto ma semplicemente come se fosse un'isola entrano mettono a posto quel poca serve di impianto e poi la gestiscono così me l'hanno venduta perché così me la vendono io sono poco sicuro però vedremo cosa succede quindi in buona sostanza dimmi chiedo scusa tieni aperto il microfono tu sei nel lato 6 alessandrino sì perché adesso finalmente mi si è aperto il computer e ci sono c'è quel che dice la relazione di Arera sul lato 6 alessandrino non fa i nomi a differenza di altre situazioni delle gestioni dei soggetti non conformi però dice al 6 alessandrino fa i nomi fa i nomi che non riusciranno mai ad avere dice la presenza di tre soggetti con affidamento assentito in conformità che sarebbero amag spa gestione acque spa e comuni riuniti belforte monferrato srl questi dice che sono quelli diciamo che hanno avuto appunto che anche se non c'è l'unico gestore però sono soggetti conformi perché appunto hanno usufruito di quello che chiamavo la clausola di salvaguardia cioè la storicità della gestione e quindi questi sono a posto secondo Arera poi dice ce ne sono sette soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme in altri ato dice anche nome e cognome nell'atto 6 invece non c'è scritto adesso non so dopo di che questa storicità viene viene legata a qualcosa al fatto come dire che eh che ha anche degli elementi anche di arbitrarietà eh cioè adesso Arera dice la situazione è questa qua dopo di che io lo spazio che intravedo oltre al fatto di fare però un lavoro di di informazione di sensibilizzazione eccetera eccetera eh è quello di provare a mettersi a mettere insieme diverse realtà e eventualmente nel momento in cui si mettono insieme anche diverse realtà si potrebbe fare una battaglia diciamo per ottenere una sorta di subambito nel lato perché è vero che la legge parla di unicità di gestione però nel lato 6 Alessandrino non c'è unicità di gestione e e comunque in più c'è in più c'è una cosa che la possibilità di costituire certo deve farlo lato per ragioni particolari però una sorta anche di subambito l'unicità della gestione non è una roba in sé per sé assoluta poi si può approfondire la questione però io la strada che intravedo è quella appunto da una parte di informazione sensibilizzazione dall'altra mettere insieme diverse realtà che possono fare una massa critica perché in caso contrario se sei da solo capisco anch'io che è una bella fatica ma la cosa interessante che hai detto chiedo scusa se mi infilo adesso un attimo è esattamente quella parola di subambito che io la leggo in 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 atto 6 al fatto che tutta la nostra zona è considerata in economia e per me potrebbe essere la via di protezione di queste modalità di di distribuzione dell'acqua eccetera eccetera perché la parola sub ampi sub ambito mi crea questo questo stimolo nel senso che dice se fosse davvero se si arrivasse al subambito sarebbero messe forse veramente in protezione quelle esperienze che sono quelle che sono insomma legate alla loro storicità va approfondita e william perché sono questioni non semplici però quella secondo me può essere almeno una strada da esplorare è chiaro che la premessa è il fatto di mettere insieme una serie di realtà e che queste realtà si facciano sentire no perché in mancanza di questo non vai da nessuna parte dopodiché già che ci sono interloquisco anche con la roba che dicevi sua era guarda che è chiaro che era è stata esattamente costruita la dico così per semplificare all'epoca la politica probabilmente faceva una certa fatica e appunto nel momento in cui le competenze erano dentro il ministero per approvare un metodo tarifario che violava completamente l'esito rafferendario arera è stata creata apposta per intenderci ma proprio per questo io penso che noi dobbiamo insistere sul fatto che anche perché gli orientamenti di arera sono quelli lì sono interventi tutti a favore della privatizzazione e in particolare dei grandi soggetti gestori io penso che non è che la si possa cambiare più di tanto cambiare gli orientamenti io penso che il tema è quello di riportare il fatto che la politica si assuma la responsabilità delle scelte non so se mi spiego sì concordo comunque su questa roba qua del subambito possiamo anche provare un po' ad approfondire a lavorarci non è semplice però ti dico lì bisogna partire anche dal fatto che vi mettiate un po' insieme io non so se ho il microfono ma penso di no sì ce l'hai ce l'ho? sì no no concordo con la teoria pienamente l'unica cosa che mi dispiace nei confronti dell'organizzazione nel senso che non stiamo entrando nel PNR in tutte le informazioni che ci hai dato quindi diventa difficile interloquire sulle questioni del PNR perché sinceramente sono abbastanza incasinate le questioni senza un escursus di esperienza dietro e quindi stiamo spostando l'obiettivo della riunione su delle particolarità che sono sicuramente importanti per carità però mi dispiace per questo perché aiuto grazie William era l'osservazione che volevo fare anch'io però vi voglio ancora far vedere che i dati di Arera non collimano con quelli invece che dell'osservatorio che sto non so se lo vedete questa paginetta è l'osservatorio dei servizi idrici del Piemonte per lato 6 è vero da AMAG poi i comuni riuniti Belfort e Monferrato la gestione acqua SPA che è quella che ci sta sul gobbo poi ci sono 140 vedete 140 soggetti che dovrebbero essere i vostri insomma quelli perché poi in economia ce ne sono solo due eccoli qua e non legittimati credo uno o due poi c'è il comune di Carrosio ha richiesto la prosecuzione della gestione in economia poi ci sono i comuni di Carriga Ligure Mongiardino e Roccaforte Ligure persistono difficoltà nel passaggio al gestore unico dovute alla frammentarietà delle infrastrutture gestite da numerosi acquedotti privati e consortili a servizio di un numero esiguo di abitanti quindi la vostra realtà è ben sotto gli occhi della regione e sicuramente del lato 6 e il fatto è che rimangono inerti per farvi morire di morte lenta e arrivare magari poi col salvatore Irel e con un po' di soldini del PNR a dirvi ecco qua adesso vi tiriamo fuori dai vostri problemi se però siete d'accordo io vorrei sospendere un attimo questa analisi locale che però ci dà anche il senso dei problemi che abbiamo davanti sempre disponibili come diceva Corrado a parlarne magari proprio appositamente facendo una riunione su questi temi specifici ma vorrei chiedere se possibile di sentire cosa ne pensate rispetto alla piattaforma praticamente del forum dell'acqua sulla quale abbiamo convocato la riunione questa sera alle iniziative da fare in preparazione e per la riuscita dell'assemblea nazionale a Napoli della manifestazione nazionale che vorremmo fare a Napoli per il 20 novembre per far sentire la voce in generale ma anche queste voci poi particolari ho visto che Davide ha messo sulla chat il testo della piattaforma l'avevamo legata alla prima convocazione dell'altra volta però chi la vuole scaricare è disponibile sulla chat Simona vuoi dire qualcosa se non sbaglio vero? Sì io volevo solo dire che vabbè intanto ringrazio moltissimo Corrado perché è sempre molto chiaro e poi in particolare lo volevo ringraziare per quella nota che ha mandato e che abbiamo fatto girare quella sul Water Service Divide che secondo me è molto importante perché nella sua brevità però comunque comincia a confutare questo racconto falso che viene fatto per supportare il PNRR quindi il sud cattivo e le gestioni cattive che vanno corrette anche a costo di commissariarle e penso che dovremmo proprio sfruttare questo mese che abbiamo davanti prima della nostra manifestazione per cercare di far circolare il più possibile questo tipo di informazione e penso che anche noi qui a Torino che siamo in teoria quelli bravi che abbiamo anche la gestione quella conforme comunque le nostre magagne le abbiamo io trovo incredibile che noi non ci è dato sapere quali sono i progetti che vengono presentati da SMAT per esempio abbiamo avuto così in una chiacchierata informale alcune informazioni un progetto sui fanghi, un progetto sull'acquedotto della Valle Orco e lì invece sono cose su cui bisognerebbe proprio discutere ecco perché sullo spreco idrico per il contrasto allo spreco idrico che cosa chiede la nostra azienda ma in generale che cosa chiedono le aziende idriche in merito a questi finanziamenti mi sembra che con una mano si accarezzino i ragazzi dei Friday for Future e poi con l'altra in realtà si pensa a costruire un nuovo acquedotto che prenderà l'acqua dal torrente Orco e la convoglierà in una rete che perde il 35% dell'acqua perché noi siamo quelli bravi però comunque perdiamo il 35% dell'acqua e poi non parliamo poi di quello che è successo a Chiomonte è vero, lì è TELF, non si può imputare a SMAP però SMAP di recente ha inaugurato l'acquedotto di Valle e ci dice che grazie a quello nove comuni della Val di Susa hanno evitato quest'estate la crisi idrica e la domanda che uno si fa è non è che magari i lavori dell'alta velocità stanno segando tutte le fonti e quindi siamo costretti a fare questo tipo di opere qui c'è proprio secondo me un lavoro di confutazione di questi racconti che ci vengono fatti anche su quella che è l'efficienza così come la vede il governo e l'efficienza che invece vorremmo noi che è quella di dire ristrutturiamo finalmente questa rete idrica e quindi in questo mese forse il nostro compito potrebbe essere intanto continuare con le iniziative come questa di approfondimento ma poi anche di stare, di cercare visibilità con volantinaggi e iniziative pubbliche per cominciare a spiegare anche ai cittadini che qui c'è in moto un processo che a parole sembra bellissimo perché dire 235 miliardi per la ripresa dopo il Covid è chiaro che è un cittadino giustamente speranzoso però magari anche spiegare che vogliamo sapere come vengono utilizzati e che insomma devono servire per l'acqua pubblica la sanità pubblica e non per la sua privatizzazione scusate se mi sono dilungata, chiudo grazie Simona, figurati ma secondo te Corrado le scadenze che sono fissate nel PNRR sono labili? io ho l'impressione che non lo siano mica sai perché guarda che in Europa non sono mica come qui da noi se è il 30 forse perché c'è i faldoni i faldoni che sono allegati al PNRR hanno delle tabelle con delle scadence trimestre per trimestre e se gli rimandi una volta passato quel trimestre secondo me non li prendono mica più in considerazione con Don Broschi lì che c'ha rucile se non la mitraglia puntata contro di noi che non ruberemo un euro non spretteremo un centesimo perché se no siamo cattivi io credo che rischiamo di perdere come è successo in tutti questi anni per esempio tu lo sai benissimo per la formazione professionale che non abbiamo mai utilizzato tutte le risorse che l'Europa ci metteva a disposizione sia pure alle loro condizioni eccetera ma questa volta secondo me è per i tempi proprio non lo so tu pensi davvero che siano elastici io ho l'impressione ti dico sinceramente che siano abbastanza tassativi tanto più che meno progetti approvano meno soldi sborsano quindi c'è anche anche quell'elemento lì non so secondo me quello che tu dici Maria Angela è ragionevole però secondo me è solo un pezzo del ragionamento perché è vero anch'io ho guardato quei faldoni incredibili la maggior parte in inglese poi anche lì a proposito della trasparenza uno dice il PNRR le schede sono 200 pagine e poi ce ne sono 2000 di dettaglio poi appunto io l'ho sfogata perché non mi sono messo a leggere 2000 pagine ecco penso però come dire probabilmente poi è anche vero che come dire i dettagli vogliono dire molto e quindi chiaramente ci potrà essere anche il fatto che poi a un certo punto l'Europa provi a richiamare però penso anche che la cosa si sta giocando una partita politica talmente grossa sulle questioni legate al ruolo dell'Europa che secondo me alla fin fine può darsi che anche quelle robe lì non siano così tassative adesso ho largo il ragionamento però è così cioè la partita vera secondo me si giocherà verso la fine del 2022 ovvero sia quando bisognerà riscrivere le nuove regole sul sul debito in Europa perché come avete presente adesso appunto il patto di stabilità europeo è sospeso ma come dire poi nel 2022 bisogna iniziare a discuterlo quella roba lì ed è quella è una partita politica enorme la dico in altri modi è vero che noi siamo messi come siamo messi eccetera eccetera però mi viene ogni tanto da fare questa battuta forse l'instabilità italiana sta passando anche in Europa più che europezzarci noi nel senso di diventare rigorosi sono anche gli altri che stanno iniziando anche a vedere che non è tutto così semplice prendiamo le elezioni tedesche tedesche adesso nessuno non sa come va a finire quel governo lì però le cose che girano è che appunto ci sarà il presidente il cancelliere socialdemocratico la vicepresidente dei Verdi e il ministro delle finanze del partito liberale il partito liberale in Germania è il come dire è quello che ha fatto la campagna elettorale col fatto che imputando al sud dell'Europa di prendere i soldi dei tedeschi che stanno già dicendo e lì il ministro delle finanze non so per intenderci qualcuno se lo ricorderà tipo era Schäuble prima del socialdemocratico eccetera eccetera il ministro delle finanze è come dire abbastanza rigorista su queste cose la Francia la Francia aveva elezioni su una situazione molto incasinata cioè appunto anche lì con una destra adesso c'è anche questo nuovo personaggio insomma che complica anche molto la vita quindi io dico ovviamente faccio questo ragionamento perché a differenza di magari di altre vicende più specifiche non so che ne so i fondi sulla formazione professionale o i fondi di coesione sociale su cui appunto lì si dice non le avete spese non ve li diamo qua ho l'impressione che si gioca una partita politica più rilevante che si chiama esattamente appunto cosa succederà dopo perché è questo è una roba come dire talmente seria perché appunto i soldi che ci ha dato il recovery plan che certamente in termini assoluti non sono pochi però appunto la gran parte sono presi a prestito che succede di quello fra un paio d'anni ecco quindi questo per dire che io ho l'impressione che appunto che tutta la vicenda recovery plan varrà giocata in Europa a questo livello si intreccerà appunto sul futuro dell'Europa dopodiché peraltro siamo in una situazione che per questo dico no sì va bene infatti ormai lo dicono in pochi ce lo dice l'Europa perché questo governo sta facendo ha incorporato le condizionalità e per certi versi ancora peggio per esempio la legge sulla concorrenza anche qua peraltro slittata perché dove essere a luglio e poi a settembre in termini cogenti adesso siamo ottobre però la legge sulla concorrenza che uscirà stringerà le viti sulla soluzione in house e questa cosa qua è una roba peggiorativa rispetto all'ordinamento europeo perché l'ordinamento europeo come dicevo mette le tre forme di gestione sullo stesso piano la legge sulla concorrenza invece sostanzialmente dirà appunto la gara e le società miste che sono sullo stesso piano e invece la soluzione in house se non essere spiato tale capitale pubblico sia ancora di più l'azienda speciale stanno un gradino sotto questo appunto per dire che appunto al di là poi appunto di quali che sono le condizionalità noi comunque cioè comunque questo governo le ha già incorporate le condizionalità e dovremmo in qualche modo farci sentire per rendere chiaro a tutti questa cosa qua cioè per rendere chiaro che appunto in realtà tutta l'operazione che sta dietro al PNRR è un grande sostegno pubblico alla ripresa del mercato adesso io leggevo in questi giorni la nota di aggiornamento del documento di economia e finanze lì la stima di quello che dovrebbe fare in termini di maggior crescita sia del PIL e dell'occupazione da parte del PNRR in realtà le stesse stime che fa il governo non è che sono così strabilianti parliamo ciò non toglie che si dice crescita 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 si dice di nuovo come dire l'idea è la crescita del PIL alla faccia per dire della transizione ecologica di tutti i ragionamenti appunto sulla qualità dello sviluppo e via dicendo però insomma io penso che anche da questo punto di vista puntare tutto sul PIL sulla crescita anche per provare ad affrontare i problemi del debito beh non sarà così semplice neanche per loro certo bisogna che ci siano in campo però come dire le forze le intelligenze per rendere chiare queste cose qua e le ragioni della nostra battaglia perché altrimenti in caso contrario ci tocca assorbirci il fatto come è stato propagandato che saremmo alla vigilia del nuovo boom economico come all'inizio degli anni 60 no? cioè ecco queste qua veramente siamo alla pubblicità a progresso però ovviamente bisogna un po' smantellarla e soprattutto provare a far vivere un altro punto di vista insomma dopodiché già che ci sono così poi mi taccio vediamo se qualcun altro vuole intervenire a me per esempio le cose che diceva Simona mi sembrano cose utili anche qua no? noi possiamo denunciare il fatto che il PNRR in realtà dà poche risorse non affronta i problemi di fondo del servizio idrico vuole completamente privatizzare però per esempio prenderla anche a rovescio dicendo bene quali sono i progetti che presenta l'azienda che vogliono farsi finanziare ecco appunto adesso sentivo il dato di Torino che è come quello dell'Emilia insomma 35% di dispersione della rete idrica come dire se hai intenzione di fare qualcosa o quello lì lo si assume come un dato sostanzialmente modificabile e nel momento in cui diciamo che siamo dentro la crisi idrica siamo dentro i cambiamenti climatici nel momento in cui diciamo che la tutela e la preservazione delle risorse sono questioni fondamentali beh non ci occupiamo di una roba assolutamente decisiva come il risparmio della risorsa cioè io penso che noi dovremmo come dire così prenderla dall'alto e dal basso prenderla dall'alto denunciando il disegno di fondo ma anche dal basso dicendo bene un'azienda importante come SMAT quali sono i progetti appunto per il futuro del servizio idrico a Torino e nel territorio piemontese sarebbe questo il futuro davanti a noi ecco io penso che provare a dire queste cose e quindi come dire mettere insieme un disegno di fondo poi con la concretezza della realtà penso che possono essere cose assolutamente utili e che ci possono servire anche per far crescere la mobilitazione e preparare per bene la manifestazione del 20 novembre a Napoli eccezionale Corrado come sempre io non so non vedendo nessuno che interviene direi che questa sarebbe la conclusione migliore per la nostra serata se dandoci magari qualche appuntamento un po' più preciso e chiedendo già fin d'ora a Corrado se casomai sarebbe disponibile a partecipare ancora a un prosieguo di questa iniziativa sai che la mia disponibilità c'è basta metterla insieme con l'agenda degli impegni e io come dire ci sono sì sì Gabi cosa vedo che Gabi Peano voleva intervenire attivare ecco sì adesso mi sentite sì ecco ringrazio tutti e volevo fare un attimo un contatto avere un contatto con i nomi che ho sentito di casa mia intorno a casa nostra William Monachini se non sbaglio ha detto di essere di Costa conferma di Mongiardino di Mongiardino no William William è di Mongiardino è di Mongiardino ho capito qualcuno di Costa Enio Valcurone e mi stupisco un po' perché questa sera avrebbe aveva assicurato Ottavio che è appunto di Costa sindaco eccetera che ci sarebbe stato perché per vedere un po' di riunire questi questi nomi che rappresentano posti molto che possono essere insieme per poter portare avanti come diceva Maria Angela un discorso che possa avere un suo peso no ecco e chiedevo appunto loro se c'è in corso come mi era sembrato di aver sentito da Ottavio eccetera un un incontro con la Valborbera la Valcurone su questo tema se sì o se no se riusciamo a esserci un po' insieme in un certo numero e a partecipare a seguire queste indicazioni importanti che questa sera appunto sia Corrado Maria Angela eccetera ci hanno dato per poter portare avanti un discorso che abbia un senso e un suo valore ecco e chiedevo appunto a loro ho sentito Carrosio Carrega Mongiardino appunto che sono posti facilmente possono unirsi intorno alle zone lì di Costa dove c'è tutto questo progetto con Ottavio Rube sindaco di Costa voi siete con scienza? chiedo William sta rispondendo sulla chat che è tutto a livello tutto a livello non ho visto embrionale embrionale sì infatti si tratterebbe di rafforzarlo Elio diceva ma noi non siamo non ce la sentiamo di pensare a Napoli però a livello locale sì quello che dicevi tu Gabi appunto perché a livello locale non c'è questo che quando era venuta anche da noi Simona aveva fatto degli interventi molto stimolanti e molto concreti nel senso appunto di costruire qualcosa di effettivo si parlava di aprire un sportello di informazione di congiunzione con i vari comuni che potevano operare insieme si era parlato di queste cose e invece mi pare che appunto io ho passato ho girato d'Ottavio ho girato qualcuno dei miei paesi la vostra mail di informazione per questa sera ma non vedo nessuno adesso chiedevo a loro chiedevo a qualcuno di loro se hanno intenzione magari di lasciare indirizzo telefono eccetera perché potessimo poi contattarci in loco ecco visto che siamo un po' questa sera sì Gabi guarda che gli indirizzi almeno dei comuni dei sindaci li abbiamo eh l'ho visto ho visto avete le mail li metto li metto sempre in chiaro perché anche se Elio non è molto d'accordo perché sono indirizzi istituzionali quindi facilmente contattabili insomma lì li trovate tranne i vostri ecco adesso Elio scrive di mettere di comunicare attraverso la mailing list io per non tirarla troppo in lungo farei due proposte una riguarda Torino Asticuneo dove ci sono dei comitati acqua più o meno operativi ma ci sono sui quali ecco sui quali lavorare per portare avanti questo discorso di Napoli senza trascurare il discorso di Napoli che rimane sempre il quadro il contesto di tutta questa iniziativa perché se passa nel meridione ma comunque sono proprio gli argomenti che sono nostri non so se Gabi e Ottavio Ottavio magari lo cerchiamo anche noi di trovarci proprio sulla vostra situazione sulla vostra situazione del lato sei perché se ci sono come scusate guardo un attimo ancora insomma qui ci sono 140 soggetti non acquedotti affidatari c'è scritto affidatari sul piano sull'osservatorio regionale 100 aspetta 140 credo che siate voi in questi 140 quindi alla fine diventa una realtà abbastanza consistente le chiamate soggetti no niente non sono definiti affidatari affidatari però non sono definiti ecco sì però sono soggetti affidatari che possono essere e qui dobbiamo cercarci e unirci e lavorare insieme perché eventualmente ecco provare a fare una prossima riunione magari per ora ancora da lontano così virtuale su questa realtà e vi dico anche che attraverso il forum nazionale ho finalmente scovato quello che William chiedeva fin dall'inizio qualche tecnico commercialista di questo settore idrico che vi possa aiutare rispetto alla forma giuridica da dare alle eventuali associazioni di cittadini che vogliono gestire gestire in proprio fare l'autogestione è una come il contatto con questo e potremmo chiedere di partecipare a questa riunione da Napoli dove è lei o da Roma non so bene però è molto disponibile e darvi anche qualche indicazione che finora come Torino non siamo stati in grado di darvi perché non abbiamo quelle competenze lì vediamo di costruire questa riunione locale diciamo così sì sì delle valli Borbera eccetera eccetera e tu dicevi in una riunione prossima che deciderai tu quale può essere no decidiamolo insieme decidete voi per esempio se tu potessi magari fare un po' da tre d'union fra tutti pensare a questa cosa parlarne con Ottavio parlarne con la vicepresidente dell'Acquedotto di Vargo Vargo anche sì e concordare tra di voi una riunione come quella di questa sera certo che non è difficile da organizzare nella quale chiediamo anche a questa esperta di partecipare sì e vedere almeno tra di voi tra di noi portare avanti questo discorso della autogestione poi vediamo io cerco di fare tutta questa piccola rete di unione e tramite poi Simona vero ci mettiamo d'accordo come dicevi tu Maria Angela per questa bella opportunità ecco che sarebbe molto importante aspetta c'è una domanda rispondi tu Simona sulla chat sì era sulla sulla registrazione allora adesso per chi ha Facebook è disponibile già la registrazione ma solo su Facebook poi Riccardo tra qualche giorno pulirà un po' il video lo caricherà sul nostro canale YouTube che acqua pubblica Torino e comunque abbiamo i vostri i vostri indirizzi vi manderemo anche poi i link e i riferimenti così potete girarle anche a chi non è sui social network ecco quindi dateci solo qualche giorno per sistemare il video e caricarlo sul canale YouTube e poi vi diamo il link e tutto quanto e comunque se tenete d'occhio il nostro sito è www.acquapubblica Torino punto org e mettiamo sempre tutto anche lì ecco guardate sulla chat Riccardo ha scritto anche l'indirizzo ve lo potete copiare dopodiché forse possiamo chiudere a questo punto rimaniamo intesi così un filone si muove su Torino e le realtà più consolidate e un filone si concentra sulle valli come si fa ad alzare la mano ma scrivi il tuo nome con un asterisco vuoi intervenire si lo chiede lo chiede c'è una mano alzata di William ok adesso puoi aprire il microfono ci siete la cosa che volevo praticamente dire mi accodo a quanto detto la signora di prima la possibilità è secondo me abbastanza utile nel senso che per i pochi contatti che ho ma faccio presto anche recuperarne altri in Valborbera questo video potrebbe essere utile per vedere se scatta un interesse perché diciamo prendere fuori le persone con un'attivazione di attenzione su quello che può essere una paura tra virgolette di essere assorbiti in qualche modo diventa non dico difficile ma non propriamente però nel video in questa riunione anche se siamo scivolati diciamo fuori tema rispetto all'obiettivo della riunione ci sono alcuni passaggi che secondo me se sono messi in pasto diciamo i responsabili degli acquedotti eccetera eccetera potrebbero attivare anche la voglia di partecipare bene noi non siamo riusciti per la condizione che abbiamo in particolare a soddisfare una richiesta del sindaco Rube che ci aveva detto ma se magari si potrebbe fare un'iniziativa a Mongiardino visto che state facendo però non siamo in grado di farla anche perché l'amministrazione è il pallone completo nel senso meglio lasciare stare che averla vicina a questo punto però potrebbe essere in video un veicolo di diciamo promozione del problema questo sicuramente perché non sarebbe male l'idea da cosa nasce cosa rimaniamo d'accordo così allora e comunque se ci sono novità notizie accertamenti ulteriori approfondimenti noi ve li faremo avere tempestivamente ecco Elio ci saluta ci salutiamo tutti a questo punto vero e ci diamo un appuntamento al più presto possibile intanto ringrazio ancora una volta Buonanotte a tutti Grazie Buonanotte a tutti Ciao Ciao a tutti Ciao Grazie Grazie a voi alla prossima Grazie Ciao Ciao